Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e turismo sono fra i principali filoni di finanziamento del PNRR e dei fondi europei del Next Generation EU. Per i territori del patto zona ovest di Torino si sono concretizzati in tre progetti, Lines, Baiconda e Ciclovia delle Regge, 78 chilometri di percorsi ciclabili che ridisegneranno anche lo spazio urbano circostante e di cui sono stati già realizzati gli studi di fattibilità. Presentati il 12 luglio in un convegno al Castello di Rivoli. Siamo qui oggi al Castello di Rivoli, ospiti del patto territoriale della zona ovest del comune di Rivoli e del comune di Venaria per presentare un importantissimo progetto di mobilità sostenibile e di trasformazione del territorio di tutta la zona ovest. I comuni della zona ovest e del patto territoriale si sono messi insieme per ideare e per immaginare i cambiamenti sul loro territorio partendo da un diverso concetto della mobilità e quindi un progetto che tiene insieme da Villarbassi a Venaria con l'ambizione di arrivare fino a Stupinigi un insieme di piste ciclabili e di zone a basso traffico per consentire una mobilità più rispettosa dell'ambiente, più sicura, più adeguata ai tempi che stanno cambiando. Il patto territoriale ha avuto la forza, la capacità di tenere insieme i comuni di questo territorio e ha trovato in città metropolitana l'ente di secondo livello che l'ha aiutato nella progettazione e anche nella fase di finanziamento iniziale perché stiamo parlando di un territorio dove insistono 250.000 persone, dove sono stati fatti importanti investimenti da un punto di vista anche universitario, da un punto di vista della mobilità, ricordiamo il proseguimento della linea 1 della metropolitana, insomma un territorio davvero molto vivo, con delle potenzialità importanti, uno dei più attivi della città metropolitana di Torino che guarda al futuro con un'iniziativa progettuale davvero di livello e davvero molto significativa non solo per i cittadini della zona ovest ma per tutti i cittadini di città metropolitana. I progetti di fatto rappresentano in realtà un unicum, che è un masterplan di territorio sulle piste ciclabili. Il progetto è stato candidato in tre lotti diversi a Compagnia di San Paolo. Il primo progetto, il progetto Bike Honda, ha una caratteristica più di tipo naturalistico, parte dalla spina centrale del torrente Ceronda e collega le Alpi e quindi si va a realizzare veramente un'infrastruttura verde che consente dal centro di Torino di raggiungere le Alpi con la bicicletta. Il progetto Lines è un progetto più di carattere e di mobilità sistematica in una chiave verde e multimodale, inserendo le piste ciclabili, il verde, ampliando gli spazi pedonali, migliorando e valorizzando tutti gli aspetti storico-paesaggistici del territorio.